Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Massimo. Un grande professionista o un uomo che vive dell'E per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell'informazione. Comincia così il lungo post condiviso su Instagram con cui Fabrizio Corona mostra tutto il suo supporto Massimo Giletti dopo la sospensione improvvisa del suo Non è l'arena, programma in onda sulla 7. La lettera di Corona per Giletti arriva all'indomani delle ultime indiscrezioni uscite sul caso, rumors che indicano proprio in Corona la gente che ha fornito a Giletti le chat del boss mafioso Matteo Messina Denaro. A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non è mai piaciuto. Sì, abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti, chic, una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione, autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. È questa la battaglia che dovreste fare voi flaccidi e mediocri scribacchini da due soldi servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo e di status quo. Invece, come sempre, il vero show è la sofferenza del prossimo. Ti voglio bene Massimo, non mollare proprio ora. Con affetto e stima Fabrizio. Contemporaneamente, attraverso il suo profilo Telegram, Corona scrive, la società con cui collaboro lavora da sempre con tantissime trasmissioni televisive, anche con non è l'arena. Si occupa di vendere materiale esclusivo di inchieste giornalistiche e casi di cronaca, nazionali e internazionali. Poi mette in allegato alcune fotografie di chat WhatsApp, ecco qui il materiale esclusivo, mai pubblicato prima, fotografie che MMD mandava durante la sua latitanza a sue amiche strette annesse di didascalie scritte di suo pugno e alcuni audio esclusivi. Fare informazione non è un reato.